ci sono cinque domande e io giocherò con peppe giannicelli io sono una frana anch'io da questo punto di vista si è una compagnia allora vediamo chi commette meno errori la prima domanda quanti gol ha fatto i guain tra campionato e coppe con la maglia del napoli più o meno di 95 meno di 95 ne sono sicurissimo anch'io meno di 95 vediamo si è così ma questa l'abbiamo mai con la seconda quanti gol ha fatto cavani tra campionato e coppe con la maglia del napoli più o meno dice molti 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 che domande sono io ero molto preoccupato ero preoccupato comincio un po a sciogliere anche io dico più di 100 più di 100 siamo sicuri entrambi 140 sai che avrei detto di più avrei detto quasi 120 cose forse anch'io però più di 100 va bene così terza domanda quanti gol ha fatto merta in stracampionato e coppe con la maglia del napoli più o meno di 140 secondo me di più secondo me ha superato i 140 io dico meno e qua vediamo vediamo 148 pensa che io sono davanti a me il bloc per ogni partita del napoli dove c'ho i bomber più prolifici c'è sempre merta insieme sbagliato allora quanti gol ha fatto maradona tra campionato e coppe con la maglia del napoli più o meno di 110 ci arrivo per una deduzione logica secondo me si giocava molto di meno siamo sotto i 100 gol secondo me siamo sotto 100 gol se non sbaglio 148 mertens quindi io dico più più di 100 caspite 115 gol perché in effetti ha giocato anche tanti anni quindi giustamente sette anni ma perché mi ricordavo che il divario era non era così il più bello è quello lì contro la juventus la punizione per me quello quello non ha paragono quello non ha paragono quindi siamo uno a uno quinta domanda due le abbiamo risposte insomma quanti gol ha fatto careca tra campionato e coppe con la maglia del napoli più o meno di 100 io direi meno di 100 eppure io ma non perché così pareggiamo perché perché si giocava di meno lui non è stato poi tanti anni esatto secondo me vediamo 96 ecco quindi uno a uno noi speriamo che ce la siamo cavato secondo me ce la siamo cavato direi di sì ciao ciao solo per la maglia